Dopo 80 anni la chiesa retina cortonese biturgenza ha vissuto la bellissima esperienza del sinodo diocesano, evento che lei ha fortemente voluto e che ha avuto un grande risalto e un grande successo. Che frutti pensa e spera che porti alla nostra comunità? Conviene che quel che si è detto si metta in pratica. Intanto è una cosa che dico in esclusiva perché siete voi i primi a saperlo, ieri è arrivata la recognizio canonica della Santa Sede in cui dicono che siamo stati bravi e di andare avanti per quello che si è scritto. Comunque è contento? Molto contento, 500 persone che si sono messe in moto per arrivare a questo risultato e fanno una storia a molte voci. è una fotografia della chiesa retina in questo tempo. Quindi un vanto di tutta la nostra chiesa? Di vanto ce n'è poco perché bisognerebbe fare di più, fare meglio. bisogna che mettiamo in buona connessione la città con la cattedrale e io credo che sia anche un po' una bella scelta quella che mi avete proposto stamani di venire in piazza del comune che si chiama piazza della libertà, onore del vero e uscire di chiesa e venire di qua, insomma. La chiesa in questo momento si gioca il suo ruolo sulla testimonianza della carità. Stiamo vivendo molta indifferenza, molto egoismo, molta cattiveria, anche urlata. Proprio ieri Papa Francesco nella Via Cruci si ha detto che le porte chiuse sono un calcolo politico. Ma l'ha detto Papa Francesco, anzi come siamo in perfetta comunione, l'ho detto anch'io ieri sera alla Via Crucis, dicendo cioè che ci si professa tanto cristiani, ma poi si fanno affogare bim bim mare e sa paura anche di usare la diplomazia per aggiustare i problemi che dovrebbero essere risolti senza vendere armi e costruire invece quel mare nostrum fatto di pace e di concordia tra popoli diversi, tra religioni diverse, tra storie diverse ma con interessi molto comuni. Si è persa un po' di umanità ultimamente? Credo che sia compito della Chiesa, soprattutto per Pasqua, riproporre un'antropologia diversa da quella dominante oggi. Cioè la visione dell'uomo va ridiscussa. Si parli, si dialoghi, si letichi anche, ma purché ci sia confronto.